quello di questa notte non è un percorso normale come quello che facciamo di solito di tecnologia prove e test di microfoni o altre cose di questo genere no è qualcosa che riguarda direttamente il mestiere del voice over artist quelli che fanno vibrare l'aria attraverso i file che mandano ai loro clienti ma come fare a diventare un voice over artist come fare a realizzare questo mestiere dal proprio home studio iniziare entrarci dentro bisogna comprendere il meccanismo bisogna comprendere come è strutturato questo mercato oggi e quindi io l'ho fatto ho cercato di scoprire quali sono diciamo i mezzi le tecniche le esperienze intervistando una persona che da pochi mesi ha deciso di farlo diventare il proprio mestiere è all'inizio ma è stato talmente gentile da volerci raccontare la sua esperienza e quindi grazie maglio ecco la nostra lunga chiacchierata senti maglio allora e tu sei entrato in questo settore da 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 quanto se posso chiedere beh allora diciamo in maniera seria facciamo sei mesi che sto provando a prendere contratti seri perché prima ho fatto qualcos'altro e diciamo che ero molto più quando capitava c'è da dire una cosa a me storicamente non è mai piaciuta la mia voce al microfono ok è una cosa e no la cosa mi stupisce perché io diciamo che prima ha fatto qualche diciamo siamo andiamo più sul qualcuno mi chiedeva di fare la voce qualcuno mi erano magari contratti non erano contratti diciamo erano cose più tra amici e cose di questo tipo qui diciamo sì da un sei mesi a questa parte ho deciso di vabbè adesso ci spendo soldi un po quantomeno quelli che ho potuto e mi metto a farlo seriamente si non dipende non è una cosa che dipende solo da te io posso essere professionale tutti quanti iniziamo ci mettiamo un pezzettino del nostro cuore e un po di soldi perché quello perché si è perché in qualche modo deve iniziare non è che poi iniziare con microfono della barbie non perché il microfono sia la cosa ma anche se io rompo le palle di continuo sul coso con i vari microfoni però è semplicemente perché è lo strumento che ci serve per per mandare fuori la voce se poi non è il microfono che fa il doppiatore o lo speaker o il voice over è la persona che lo fa però io posso dire io la cosa che la prima cosa che ho scoperto quando mi sono messo quando ho deciso che bene adesso lo faccio lo faccio perché sostanzialmente in realtà come ho detto lo facevo da un po di tempo io vengo da letture in pubblico da fatto anche teatro amatoriale niente di particolare piccola compagnia così e poi ho fatto anche un sacco di altra roba che non c'entra niente sono un chimico quindi ho fatto sei uno scienziato di fatto io sono scienziato io ho fatto anche il ricercatore io ho fatto un paio di ricerchine piccole intratto in un paio di settori io due anni fa ero a Palermo che è la mia città natale a fare con un professore di agraria a fare intanato in un laboratorio sei un topo da laboratorio bellissimo io originariamente sono un topo da laboratorio quindi hai una mente diciamo votata a un certo tipo di ragionamento quando ti approcci alle cose sì io sono è uno dei motivi per cui ti ho contattato un po' di tempo fa io sono un tecnico non mi vergogno di esserlo sono un tecnico io vado a risolvere il problema tento di risolvere il problema mi perdo anche giornate a cercare di vedere perché una tal cosa funziona in una certa maniera o funziona in un'altra non tanto perché non funziona ma come funziona e perché funziona così è diverso l'approccio sì sì è diverso perché tu devi capire perché funzionano le cose poi quando si rompono capisci magari anche perché si sono rotte mi permette di capire perché alcune cose funzionano in una maniera o in un'altra certo io sono un chimico e non un fisico o un elettronico che sarebbero gli specialisti quindi di questa roba però di base è l'approccio che l'approccio diciamo io studio letteralmente io prima di prendere il microfono che ho l'ho totalmente studiato perché comunque se capisco bene la differenza mia diciamo così ecco se non funziona mi chiedo perché se funziona e funziona perfetto basta non ci metto più le mani vedi l'approccio della scienza e dello scienziato sulle cose vabbè poi finisce che a volte le rompi facendo così però va vabbè quello è un voglio dire bisogna metterlo in conto comunque aprire le cose è sempre molto no effettivamente devo dire non sono uno scienziato non ho la mente tecnica ma sono solamente curioso anche io apro tutte le cose per cui voglio vedere come funzionano sì 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 vabbè io tipo alcune cose non le ho aperte tipo il microfono che ho qui non l'ho toccato diciamo tento di toccarlo meno possibile visto che lo dovrei usare per lavoro quindi sì diciamo che è meglio lasciarlo lì buono fino a quando va così come non tocco l'interfaccia perché a parte che l'interfaccia l'ho anche vista dentro perché c'è chi la smonta perché come fai le ricerche cosa fai segui quelli che fanno recensioni e che ti provano l'audio tipo come fai tu del resto sì e poi ci sono quelli che letteralmente l'interfaccia le smontano l'interfaccia e parlo l'interfaccia perché è più facile che smontare io ho visto più spesso smontata un'interfaccia che un microfono tu sei uno dei pochi che ho visto aprire un microfono devo dire in un video e poi riuscire anche a chiuderlo e poi riuscire anche a chiuderlo e continuare a funzionare ecco quello è fatto importante che poi continui anche a funzionare no e ho visto gente che che sono ingegneri audio questi proprio quelli che audio ingegneri fonici tecnici audio che io scusate ogni tanto userò la traduzione italiana di un termine inglese c'è problema no vabbè quello che lo spiego perché c'è gente che di mestiere fa questo cioè di mestiere fa questo fa le prove le fa leon che letteralmente smontando le interfacce per vedere come sono fatte dentro quanta parte analogica quanta parte digitale hanno come funzionano le varie cose quindi sì questo è una cosa diciamo per fanatici nel frattempo ti fa vedere come come in realtà anche quelli bravi ti spiegano anche il perché ci sono certi circuiti e non certi altri e tu rimani lì e dice beh questa è una cosa nuova da sapere evito di smontare la mia che poi cioè dal punto di vista pratico molte persone sono bravissime a recitare a fare doppiaggi a fare un sacco di cose poi si trovano davanti il microfono una scheda audio si registra e ne esce fuori paperino e già sapere già sapere che magari registrare in un certo modo piuttosto che in un altro fare in modo che la tua voce esca come la sentono le persone vive insomma aiuta aiuta parecchio soprattutto quando poi ti devi presentare sul mercato ecco diciamo così farti sentire da chi dovrebbe sceglierti e dirti ok tu registri da casa tua mi interessa la tua voce ma se registri bene altrimenti come qualche me ne faccio quello c'è imparato dal dal pezzo che ancora non ho raccontato il microfono parla che parti parla così è dovuto spesso a cosa a come ammazzi letteralmente in post produzione la tua voce sì perché sostanzialmente cosa succede a uno come me che fa che prende che non ha contratti con agenzie perché io non ne ho che ma non ne ho anch'io cioè dico per dire ma non faccio parte nemmeno in quelle di liste private o di gente che sei all'inizio ecco diciamo non ho non faccio parte di queste cose non ho clienti fissi non niente cosa succede dal mio caso spesso e volentieri quello che mi chiedono è il prodotto finito se il prodotto finito significa io devo registrare editare che anche qui è meditare facile tagli i pezzi che non che non sono venuti bene è finito facile facile diciamo che è più facile di fare quello che devi fare dopo perché dopo deve applicare equalizzazione effetti compressione limiting via dicendo tutte queste belle cosette che fai con i plug in o se sai tutti sti soldi direttamente con le apparecchiature esterne e beh quando stai facendo quel passaggio lì a nella maggior parte delle volte ammazza e io ne ho ammazzate diverse di mie creazioni così perché quando non lo sai fare sovracompressione equalizzazione fatta come capita roba che suona dentro un tubo si e te ne accorgi dopo te ne accorgi dopo ma certe volte non te ne accorgi nemmeno subito dopo te ne accorgi tipo mi è capitato di aver mandato un campione e dopo un mese il mio contatto ha detto ma perché non c'è questo questo plugin che fa compressione perché non lo provi detto va bene lo tiro giù era gratuito detto però lo provo prima di provarlo ho tolto ho ascoltato il file su cui io sto provando uno dei vecchi precedenti che avevo fatto mi sono fermato ma che cavolo combinato dopo un mese avevo tirato fuori un file che non ho usato più ed era capisco perché perché non ho preso quel lavoro sì l'orecchio è cialtrone infatti perché mentre poi incuffia in modo particolare non riesce a capire che cosa stai facendo infatti quasi tutti i bravi fonici ti dicono non metterci niente mandami quello che hai registrato così com'è registra basso basta ti dicono solo quel poi ci pensano loro perché sanno fare il loro mestiere in effetti noi non dovremmo fare molto di più ma il mercato è un po più ampio non è esattamente così fermo alla al fonico che ti chiede una cosa molto spesso a chiederti una cosa è un grafico che si sta facendo il suo filmato e quindi vuole da te che tu gli mandi la voce la musica gliela metti perfino in sync sul suo video quindi tu devi diventare un tecnico sì infatti ma poi anche spesso dipende poi ci sono certe poi quando ti capita di fare casting o audizioni o cose del genere quindi fanno una selezione tu spesso volentieri a meno che non ti chiedano questo è il mio modo di lavorare ed è il modo di lavorare diciamo della comunità americana di cui qui io frequento sì loro ti se non ti viene esplicitamente chiesto di mandare il file grezzo cioè al limite soltanto tagliando gli errori perché giustamente non è bello farli sentire cioè senza niente dopo senza nessuna compressione il cosiddetto flat raw flat cosiddetto flat il raw flat se non se non se non ti chiedono il flat tu non esplicitamente flat tu gli puoi fare quello che ti pare quindi puoi mettere compressione e rumori quello che serve diciamo al tuo audio e quindi ti trovi a doverlo fare e ti conviene farlo perché tu non sai chi il direttore che è dall'altra parte se davvero un direttore o come dicevi tu un grafico che deve ascoltare il prodotto finito e tu sai che il cliente ti sta chiedendo una tale cosa e ti ha messo un testo per prova e tu devi registrarlo e glielo devi mandare nel miglior modo possibile questo prima ancora di venire questo è proprio prima ancora di venire scelto quando il cliente chiede la selezione il casting prima certo perché molto spesso molto spesso tu gli mandi un campione che già fatto lo mandi sul tuo sito o cose del genere e lui sceglie da solo quello che quello che gli piace il genere diciamo poi tu tu poi glielo fai ecco quello in quel caso in quel caso ti viene dato direttamente il lavoro altrimenti appunto devi fare il casting che come penso lo facciate anche voi chiamano un tot numero proviamo questi tre tu devi mandargli il meglio che hai a disposizione certo il meglio che a disposizione il prodotto finito perché a volte sei bravo ma ti entra il rumore in cuffia non puoi registrare o comunque ci sono problemi costanti perché io sono abbastanza fortunato da avere relativamente poco rumore ma c'è gente che nelle mie stesse condizioni inizia inizia che non può avere la cabina perché non tutti nasciamo coi soldi per avere una cabina subito vabbè comunque non era stata non era prevista quando è stata fatta la casa diciamo uno andava a lavorare fuori poi a un ha detto senti ma la cantina la sgomberiamo che mi serve e poi si infatti tappezzi materassi fai queste cose ecco guarda anche quella è una cosa che ho notato nel frequentando gli americani che hanno una sorta un numero di soluzioni alternative per la cabina che è quasi sconvolgente non mi aspettavo di trovare tutte queste cose la cosa che va più in moda di moda per adesso è il lo chiamano pvc booth che sarebbe la cabina fatta coi tubi di pvc e loro fanno mettono fanno una struttura di pvc grande in realtà quanto mi pare ma realmente non è grandissima è piccola e questo fatto di essere piccola ha altri problemi ma comunque normalmente hanno un ma insomma due metri per due circa si piace proprio a farla due per due per due facciamo facciamo un cubo no 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 non fanno un cubo perché fanno tendono a fare tendono a farla in realtà fare più vabbè loro in piedi fanno quindi un parallelepipedo comunque certo si fanno un parallelepipedo per evitare il fatto acustica e questo rientro nella modalità scientifica acusticamente le standing waves le onde di riverbero quelle che senti e rimangono attive diciamo certo quella che senti e si creano vabbè tra superfici parallele quando quando si quando le si creano di più quando ci sono le pareti tutte alla stessa distanza cioè in un cubo se ne creano di più che in un parallelepipedo di una certa ma ci sono dimensioni apposite c'è tutto uno studio sulle room modes comunque se tu avessi un metro per un metro per un metro avresti un subwoofer di fatto sì infatti c'è il motivo per cui tutti i cosiddetti mic shield i microfoni i scudi da microfono quelli si mettono davanti e dietro non servono esattamente a un tempo ok 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 l'ho sempre sospettato perfetto sì non servono a niente perché se allora intanto le metti dietro dietro al microfono perché normalmente vengono messi così dietro al microfono è l'area meno sensitiva del microfono quindi diciamo che non stai proteggendo il microfono da rumori o da rimbombi e mettendoli in questa posizione sì perché adesso lo faccio vedere sulla telecamera questa è la parte davanti la forma è a cuore lo dico per chi lo sta guardando quando lo giri la parte dietro di solito ha semplicemente un piccolo pezzettino in cui sente ma sente poco il microfono nella parte posteriore quando sono ipercardioidi quando sono semplicemente cardioidi non sente quasi niente e sente solo i riflessi che arrivano nella parte anteriore quindi se metti un filtro qua di dietro a che serve inoltre poi ci sono quelli altri invece che sono ancora peggio sono quelle che si mettono attorno al microfono non so come si chiamano certo sì quelle specie di la spugnona la spugnola dentro cui ci metti il esatto se anche quello allora quello lì ha un altro problema e questo mi hanno fatto proprio sentire in diretta no ma sono arrivati i pezzi registrati da queste comunità che seguo e letteralmente loro chiamano il rumore lo chiamano boxy il rumore da tipo come se fossi in una scatola in una scatola perché se metti troppo l'audio il micro... vabbè se metti una scatola attorno all'orecchio poi senti in scatola metti la testa di una scatola senti scatolato ma anche se metti materiale assorbente troppo vicino al microfono succede questo infatti le cabine troppo piccole non funzionano per questo non funzionano bene per questo motivo ritornano strani dentro il microfono questo mi hanno appunto ripeto fatto sentire è proprio dimostrato più di una volta quindi non funzionano né questi né quelli di lì quindi loro fanno questo 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 scatolotto questo interagliatura di tubi di pvc di tubi di pvc e lo ricoprono con loro li chiamano terri acustici in realtà sono sì sono una sorta di tappetini perché si chiamano quello e molto grandi sono molto simili a quelli che usano molto stati negli stati uniti per mettono sotto i mobili per fare traslochi ok e ne hanno una cosa che usano spesso da loro è una variante diciamo più pesante mettono attorno questi questi affari e con 200 300 400 dipende quanto grande cosa ci metti dentro con 400 dollari hanno un sistema che funziona e funziona perché normalmente ci registrano non soltanto quelli al mio livello gli indie e gente che ha iniziato da poco ci vai avanti fino a quando sei un professionista anche diciamo non altissimo livello perché appena puoi ti prendi una cabina come 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 ti comanda in pratica tu metti questa specie di tenda da deserto dentro a una stanza sopra il tuo computer a tua postazione e li lavori sì sì molti fanno così poi alcuni tendono a magari mettere il computer fuori per evitare ventole ventole eccetera sì però a parte quello si portano dentro monitor schermo tastiera microfono ovviamente è quello dà l'opportunità sia di mettersi seduti che mettersi in piedi a registrare come viene meglio quindi poter comandare anche con la tastiera il computer che magari si trova fuori e poter anche doppiare un filmato per dire quindi avere riferimento sullo schermo di quello che stai facendo non dover stampare i fogli perché hai davanti a lo schermo con un testo molti usano un tablet come hai detto però molti si portano dietro anche monitor veri e propri si sistemano in modo da far meno riflessi possibile fare riflessione audio meno riflessione audio possibile insomma le spostano le fan e dicono però alla fine diciamo che è questo il loro modo di operare e vanno avanti per un bel po c'è gente anche che certo il fatto doppiaggi di videogiochi anche famosi ma certo così audiobook queste queste cose sono all'ordine del giorno direi che si considerando la quantità di audio book che negli stati uniti vengono registrati ogni giorno non è che sono tutti anzi nessuno quasi nessuno è fatto in sala di doppiaggio quindi tendono tutti a lavorare da casa a casa anche anche quelli che una volta erano tipo grandi nomi che una volta lavoravano soltanto in studio perché di solito i grossi tendono a lavorare soltanto in studio adesso hanno il loro studio da casa la loro cabina messa a casa e via dicendo sì come come sta accadendo qui molte persone che hanno molti qui in realtà avevano già cominciato prima a prepararsi in questo senso ma non perché sapessero cosa stava per accadere ma semplicemente perché molto spesso avere il tuo materiale ti consente di essere padrone del tuo lavoro ma altrimenti sei sempre alle dipendenze di qualcuno che deve avere tempo di registrarti però molti stanno arrivando adesso li vedo perché scrivono si fanno avanti poi li ascolto ascolto le voci eccetera questo è uno è bravo lo so mi dispiace che non stia lavorando in sala e che stia cominciando adesso a prepararsi su un mercato che è terreno veramente difficile perché ci sono due diciamo dividiamo il nostro settore in due parti quello che si muove su internet che è un po all'americana perché stiamo prendendo quel genere di di modo di lavorare a cui non eravamo abituati e poi c'è quello che la sala di registrazione il fonico eccetera tu sei l'attore vai in sala pensi solo a registrare il fonico ti dice che distanza devi stare cosa devi fare eccetera tu fai i tuoi take lui fa il montaggio audio adesso tu sei tutti e due lì mentre l'altra parte il cosiddetto lavoro all'americana era quello con voice one two three voices.com i vari sistemi di casting dove tutti presenti con un tuo demo si spera registrato da te che tu possa effettivamente replicare perché capita spesso di sentire dei demo che sono stati fatti da professionisti cioè gente che costruisce il tuo demo poi tu quando sei in casa non sei in grado di ripetere quel suono quelle intenzioni quel modo di fare e questi sono i due mercati lo dico per chi ci sta ascoltando perché magari non ha idea di che cosa stiamo parlando sono i due mercati di base quindi quello fisico dove c'è il professionista i due professionisti cioè l'attore e il fonico che lavorano assieme l'altro è dove l'attore sta lavorando attraverso un'interfaccia che gli consente di ricevere le commissioni perché un cliente dice mi piace la tua voce te la pago così fai questo registra questo testo e tu sei in casa e lì devi registrare magari metti il microfono sul comodino ti metti seduto lì con il pad in mano registri e poi mandi via il file nessuno sa dove caspita fossi tu a registrare questa cosa l'essenziale che gli arrivi un suono che sia che abbia un senso chi lo faceva dietro alle ante dell'armadio e sai quanti armadi sono stati svuotati per fare la cabina infatti l'importante è non farlo in bagno non tanto perché si fanno delle stronzate ma proprio perché il bagno acusticamente diciamo non aiuta non aiuta il microfono quindi tu sono alcuni mesi che ti sei buttato a capofitto nel settore adesso ti sei iscritto a diversi portali cioè come stai procacciando se non principalmente allora all'inizio proprio all'inizio ho sfruttato io ho fatto i miei primi casting sono stati in inglese o faccio parte di comunità di voice over americane comunità quando si intende comunità intendo né più nemmeno chat sono ok ci sono vari vari gruppi sono un paio che sono abbastanza attivi e insomma facendone parte è in modo un modo che ho avuto per scambiare idee soprattutto proprio all'inizio su che microfono come questi qui hanno tutta una teoria sul ti ho accennato una volta tutta una teoria su come si deve abbinare la voce al microfono ok perché perché questo in studio spesso e volentieri tu registri su un neumann un tlm 103 o un 187 o cose simili e quindi poi il fonico che ci pensa la tua voce a casa tu non hai normalmente uno che inizia non ha un u87 cioè a meno che non hai soldi da parte non è una cosa immediatamente approcciabile no sei a casa ma si me lo compro e comincio no e questo però ti questo però cosa comporta che tu se hai la voce buona per un tlm per un 103 o per un 187 non hai da farci niente ma se per caso la tua voce risuona strana e non ha idea di come sia giusta sì quindi cosa fanno loro c'è gente che magari tecnico audio da da un po da anche da ci sono anche famosi gente lì in mezzo che sostanzialmente si mette a disposizione per quando viva sostanzialmente a sentire la tua voce dire secondo me su questa sotto questa tua voce che è più bassa va meglio questo microfono o quest'altro o su quest'altra sua tua voce che è più alta rimetterei quest'altro perché perché così più o meno hai all'uscita dal microfono senza fare niente una voce diciamo equilibrata che può andare su tutto su cui puoi farci puoi lavorarci anche in post produzione in modo più tranquillo e spendi decisamente meno 300 400 euro 500 ma sempre di meno comunque certo diciamo da 150 200 in su in quel range medio sì sì dove però effettivamente c'è della roba veramente buona io ho provato dei microfoni che sono eccezionali su quella su quella gamma di frequenze su quella gamma di di asco spesa lì che ti consente veramente di lavorare a livello professionale in effetti un qualsiasi luit luit che qui in italia stanno cominciando a prendere piede adesso ma negli stati uniti mi sembra di aver capito che è usatissimo ma poi sono austriaci tutti come gli AKG sono austriaci allora l'alluit è l'austrane audio quella che ha fatto che ha fatto lo C18 che ti consiglio di guardare e costa un po' però è un bel microfono e sono transfughi dell'AKG quando ha cambiato proprietà è di Samsung adesso sì 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 quella volta quando quando in realtà ci fu una ristrutturazione proprio hanno mandato via gente e questi sono andati via di loro spontanea volontà e si sono aperti due ditte sempre Armand Cardon Armand Cardon sì 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 non mi ricordavo il nome nemmeno io e questi qua si sono aperti queste due ditte con target vagamente diversi però l'idea di base è quella in quel caso cosa ho fatto le prime le primi casting erano lì dove appunto ho preso le mie scelte per il microfono e erano in inglese non erano cose per piccoli videogiochi una cosa che per piccole produzioni piccoli videogiochi rente indipendente tipo uno due tre persone che fanno il lavoro sì a volte era il singolo programmatore che ha bisogno di la voce nel videogioco o uno che scrive che ha bisogno che qualcuno gli legga la sua la sua la sua parte primi le prime cose le prime primi casting sono stati lì e poi ho cominciato a fare casting fuori mi sono messo cosa fai tu ti apri praticamente tutto quello dove ti fa tutto quello che ti permette di fare lavoro da freelance quindi sia per te forme generiche e fever che però è veramente difficile entrarci perché o parti da molto in basso e la si va nella quasi nella deontologia quando ti vogliono pagare 5 euro è la natura del server si chiama fiver proprio apposta perché attira pubblico per il basso costo poi uno inizia poi magari se ne esce fiver è grandissimo e tu per emergere deve aver fatto lavori siamo sempre lì però non puoi fare lavori perché appunto sei nuovo e quindi oppure li puoi fare ma devi stare veramente a prezzi bassi devi iniziare a prezzi bassissimi sì ed è non è detto che sia la personalmente non credo che sia la cosa migliore da fare perché andiamo allo sfruttamento diciamo esatto è proprio esattamente quello che penso io almeno comunque vabbè e poi ci sono vabbè sino ma siamo d'accordo su questo poi ci sono altre robe tipo app work che già funziona meglio perché puoi spesso c'è tu riesci a parlare prima con il cliente per vedere che cosa vuole c'è già va un po' meglio come strutturato un po' meglio e poi ci sono tutte quelle da tutte le varie piattaforme dove tu metti la tua voce tipo Mandy network tipo Mandy allora ci sono due tipi a questo punto ci sono quelle dove paghi paghi all'ingresso ok certo devi avere se tu paghi il biglietto sei visibile ok e quelle dove in realtà paghi dopo paghi la commissione ok che che sono gratuite ce ne sono vabbè sono tipo una citata tu Mandy network che è a pagamento e l'altra è vabbè voice.com e voice123 e qualche altra ma diciamo principalmente sono voice.com e voice123 le principali tu ti iscrivi lì e ti puoi iscrivere anche gratuitamente gratuitamente sostanzialmente devono essere i clienti che vengono a cercare la tua voce certo funziona come nelle piattaforme dove in realtà tu ti iscrivi cioè in pratica è un muro tu sei in mezzo a tanti altri la gente sfoglia deve avere la pazienza di fare play su ogni demo il demo principale e poi li sentirei però se tu paghi se tu paghi poi da quel punto contattarli o essere contattato più facilmente perché ovviamente se paghi però lì si tratta partecipi anche ai casting se paghi partecipa anche ai casting si puoi venire scelto anche così però è molto una cosa molto più rara se paghi ovviamente ti si apre un mondo paghi e qua rientriamo nel discorso dei soldi e del principiante ecco ma scusami ti si apre un mondo è una parola grossa perché si apre un mondo più grande un po più grande perché la realtà è che io questo percorso l'ho fatto circa 15 anni fa proprio quando hanno iniziato 10 15 anni fa appena mi ricordo appena aprivo i suoncio 3 fu una specie di orgia collettiva tutti quelli che avevano un home studio ci si buttarono a capofitto poi diventò un'altra cosa e si aprì anche a un settore che appunto sono quelli che stanno iniziando e che molti di cui molti non hanno una mente diciamo così scientifica un approccio logico su questa cosa ma ci si buttano perché sono appassionati di doppiaggio di qualsiasi cosa quindi e cominciano a buttare demo di qualsiasi genere lì sopra molto spesso a un pubblico che non è cosciente della lingua che sta acquistando perché tu conosci la lingua l'inglese l'americano ma tu sei italiano tu sei americano inglese perché ne so io giapponese vai a cercare un italiano tu non sai che differenza passa tra un italiano e un italiano broadcast dico bene c'è questa non si sa farei un paragone spesso gli americani non sanno distinguere tra un accento italiano vero e uno fasullo si in effetti la maggior parte dei questa è una sciocchezza se vuoi però mi è capitato la maggior parte delle versioni da italo americane io non lo faccio quasi mai perché il mio inglese è pessimo e non capisco quello che faccio quindi manco ci provo però ho un amico americano che si chiama Dave Reggie che saluto se vede questo video che è molto bravo lui ha una voce meravigliosa rotonda stupenda bravissimo lui lavora in casa nel suo salotto con un TLM 103 e una scheda M audio ma questo ha dimostrazione del fatto che non c'è bisogno di cose da pazzi per registrare bene e ha un grande risultato dai suoi lavori lui lavora principalmente su Vice 123 e quando mi chiedono una voce con italo americana e sono americane a chiedermelo gli mando lui lui è di vicino a New York abita dice io devo fare un accento irlandese più che italiano allora ci credono perché se fai l'accento italiano non ti capiscono pensano che tu sia tedesco non riescono a comprendere perché l'italiano che parla inglese l'accento tende a staccare molto le consonanti e farlo si appunto molto staccato come noi potremmo sentire un tedesco da quel punto di vista l'inglese suona molto meccanico se vogliamo l'inglese italiano che parla un italiano senza vabbè poi ci sono quelli che sono quelli bravissimi perché c'è della gente che parla un inglese dei colleghi che invidio tantissimo che fanno i casting in inglese e in italiano riescono a fare della roba bellissima io io penso io io conosco miei ex colleghi dei tempi della ricerca scientifica scientifica sì che potrebbero fare il casting cioè potrebbero fare casting in inglese con la voce che si ritrovano perché parlano un inglese perfetto quantomeno parlano di general american sì che è quello l'accento che vada per la maggiore in inghilterra in inghilterra ciao negli stati uniti ho cominciato così poi ho cominciato a fare in questi piccoli casting piccoli perché si tratta spesso di piccoli casting in su questi siti dove mi sono iscritto e poi quasi si rientra nello stesso punto devi investire si investire in che senso allora è lo stesso problema del microfono in realtà è lo stesso problema del microfono della scheda audio spesso è una cosa è una cosa che ti trovi da uno che inizia almeno io che mi ho iniziato mi sono trovato abbastanza presto ad averci a che fare e tu hai speso soldi per il tuo microfono la tua scheda audio qualche si qualche plug in qualche trattamento audio della stanza e cos'è del genere tu hai questo ti hai speso questi soldi insomma è il minimo che potete mettiamo è un po' di soldi te li devi mettere in mano per far questo per farti vedere sui casting di di voice.com devi pagare e si tratta di 300 500 euro l'anno e non è poco si considerando che tu vorresti poterci rientrare abbastanza velocemente perché se inizi a fare sto lavoro spendi 500 euro e poi magari li recuperi in un anno e poi c'è un'altra cosa scusa se ti interrompo ma aggiungo questo molto spesso considerando che il cliente rimane del portale è difficile portarglielo via cioè il cliente se ti rimanesse ok investi ma poi nel corso degli anni quel cliente ti rimane ma nella maggior parte dei casi chi è su quei portali continuerà a fare ricerche su quei portali si a meno che durante la produzione non si è riusciti a contattarli in altra maniera perché normalmente questi portali alcuni portali in fare che sia app work funzioni così non vogliono che esca niente dal portale cioè nel senso che tu devi tutte le comunicazioni devono passare da lì altri non si fanno tutti questi problemi se tu mandi una mail al cliente o il cliente ti manda una mail per dire oggi ci sentiamo sì una cosa del genere cioè sono semplicemente loro ti danno il cliente poi se tu riesci a tenertelo sono fatti i tuoi diciamo sì loro preferiscono ovviamente che tu rimanga sul portale perché è così che fanno i soldi vabbè chiaro però è capitato di gente che uscisse fuori dopo non deve uscire fuori durante il contratto durante tutto il contratto se hai un contratto con uno di questi siti devi rimanere dentro perché se per caso lo scoprono ti buttano fuori e non devono rientrare più è scritto nelle condizioni di contratto nelle condizioni di contratto tu se prendi un contratto lì lo cominci e lo finisci lì poi se in qualche modo sei riuscito a portartelo fuori non sono cose che loro possono sapere più perché sono fuori dal portale io ricordo quando ero su voices.com le grosse difficoltà che avevano loro nel comunico perché avevo sempre un project manager che in realtà faceva da tramite e però non parlando italiano molto spesso mi è capitato in un'occasione per esempio di avere a che fare con un'azienda italiana che aveva fatto il casting lì azienda di respiro internazionale per cui in realtà aveva cercato diverse voci però erano italiani dovevano comunicarmi delle cose importanti riguardo le intenzioni da tenere nello spot le comunicavano in inglese al tizio poi scrivevano il testo il tizio cercava di tradurmele e lui era americano e insomma alla fine non ci riuscivamo alla fine loro hanno messo il loro numero di telefono cellulare sotto con scritto ti prego chiamami lui me l'ha pensato pensando che fosse un pezzo del testo e che devo fare? io ho dovuto chiamare e allora lì ci siamo accordati e dice guarda questo qua non capisce un cacchio non so come fare mi serve questa parola detta in questo modo e gli ho fatto la frase finale allora ci siamo riusciti altrimenti se non scava al cavo è il limite di questi portali ma diciamo che poi dipende perché ci sono per esempio ci sono dipende dal casting che capita perché a volte vogliono la presa diretta come stiamo facendo noi quindi hai la direzione comunque con qualcuno ci parli ovviamente parli per quanto ci può essere un tramite uno di questi è italiano certo diciamo una chiave di lettura te la può dare più facilmente sì 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 e poi soprattutto sa come suona in italiano perché c'è da considerare come suona la lingua quali sono secondo te al momento cioè dove ha senso investire su un proprio una sottoscrizione ecco dove sei sicuro che bene o male qualcosa porti a casa e magari inizi a lavorare voice.com ha cose che pagano di più però in italiano sono più rare sì mi dicono i miei amici americani che hanno decine di casting al giorno cioè a disposizione poi non le fanno dieci però hanno potenzialmente decine di casting al giorno io e da una settimana che non ne vedo nemmeno uno ok però quando entrano entrono casting grossetti tanto meno su voice one two three da quello che ho capito perché non sono a livello a livello da poterci guardare dentro ma quello che mi raccontano perché io a volte chiedo agli americani mi cerchi di fare una ricerca in italiano e vedi che cosa esce e così via da quello che da quello che ho capito ci sono c'è molta più roba ma più piccola sì quanto sia quanto sia approcciabile da me siccome non la vedo non lo saprei dire quindi ti posso dire questo poi ci sono ci sono altri siti cioè poi appunto a volte girano buoni su su app work nella sezione nella sezione per voice over app work è la cosa buona che non necessariamente non hai necessità di sottoscrivere niente perché basta quello lì visto che funziona a commissione ok e poi ci sono altri listing altri robe tipo tipo voquent voquent sì voquent oppure voiver che sono roba spagnola in realtà sì anche lì è più una lista classica lista statica tu metti le tue le tue cose però mi è capitato di ricevere un paio di casting da questi è proprio lì però là il cliente che cerca o il manager che cerca per il cliente il manager del sito che cerca per un cliente ah sì certo lui direttamente che fa da agenzia da agenzia sì e sì infatti si definiscono agenzia anche se non ho capito se funziona esattamente come le agenzie beh diciamo che se devono però se hanno il cliente lì non è che è lavoro per loro quindi sì 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 quindi tipo sì infatti tu stai lì però lì non sei attivo tu aspetti tu poi quello che puoi fare è continuare a aggiungere campioni in modo da avere provare varie cose cioè tipo fai il campione pubblicitario il campione per audiolibri il campione per quel che è per segreterie telefoniche insomma questo tipo di listing così ti costringe a esplorare almeno a me costringe a esplorare tutte le varie sottocategorie certo a prescindere dal fatto che tu ci riesca bene oppure no tu hai la spinta a farle tutte sì perché hai più possibilità e quindi e poi nel frattempo stai facendo diciamo una scuola senza bruciarti sì perché tu comunque una minima idea ce la deve avere quindi magari ti cerchi perché in giro ci sono quelle degli altri spesso e volentieri spesso e volentieri i campioni degli altri sono accessibili perché appunto sono lì per i clienti per potenziare i clienti e quindi tu senti gli altri come fanno una segreteria telefonica non è detto che tu debba imitarla per forza per dire ma almeno hai il tono generale quindi hai un'idea di per ripeto come si fanno una segreteria telefonica come si fa un annuncio pubblicitario come si fa un tutorial come si fa quando fai uno spot sì stai parlando con qualcuno ma è qualcuno che è talmente a tanti gradi di separazione da te che sostanzialmente è come sei in un palco che parli a un pubblico e non vedi il pubblico certo quando parli con quando fai un tutorial o un audiolibro o altre cose molto più intime tipo così anche un videogioco tu hai comunque l'idea che stai parlando con una persona specifica oppure con un gruppo di persone specifiche quando io sfortunatamente non mi è capitato di fare tutorial o cose del genere ma quando io registro i campini per il tutorial mi immagino che sto parlando dei studenti se riesci a entrare nel meccanismo a capire allora la differenza tra un audiolibro uno spot una segreteria telefonica piuttosto che un corso e sono tutte cose differenti la stessa cosa accade per il doppiaggio il doppiaggio ha bisogno di un certo tipo di interpretazione di verità come dicono i direttori di doppiaggio e qui ogni pezzo delle cose costruite con la voce ha bisogno del suo particolare mood e quindi il fatto di averlo già identificato è una bellissima cosa volevo chiedervi dal punto di vista tecnico ho visto che tu sei e sei già uno user di SourceConnect quindi proponi la tua voce con la regia dal vivo sì e allora dal punto di vista tecnico faccio anche vedere dato che spesso io faccio roba tecnica faccio vedere questa cosa qui io sto registrando Manlio su una traccia attraverso la mia scheda e quindi io potrei tranquillamente fargli fare uno spot in questo momento avere già la traccia pulita esattamente come se l'avessi registrata qui nella mia cabina di fianco e se lui fosse qui fisicamente nonostante lui si trovi a un sacco di chilometri da me dovresti fare lo spot del tuo sito ad esempio oh e beh ci fai pensare non è una brutta idea scusate lo faccio lo edito ti faccio lo spot e lo mettiamo in onda quasi quasi poi ne parliamo comunque il tuo sito è no tanto per allora il mio sito è maglio trattino calvi punto crd punto co ok eccolo qua e ora lo apro eccolo qua poi ci sono i demo vocali effettivamente qua abbiamo home cosa faccio chi sono contattami e poi c'è available via source connect noi in questo momento siamo collegati con source connect now e poi che altro c'è c'è tutta la tua specializzazione speaker audiolibri eccetera eccetera la tua mail maglio malio.calvi chiocciola protomail.com che è una roba tecnica questa qui perché altrimenti eh no questa è una roba qui sono svizzeri un bel servizio mail svizzero molto attento a robe del gtpr di protezione dati oh che bello ecco buona sapersi vedi ci spostiamo da gmail a questa roba qui che forse sì no tendo a usare per lavoro questa poi ovviamente ho le gmail perché non se ne può fare a meno però però sì tendo ad avere ad usare questa per motivi professionali allora io sento fra l'altro un bel suono dalla tua parte quindi mi viene naturale chiederti che cosa stai usando per per hai un ambiente abbastanza curato ok allora partiamo dal microfono sì il microfono è un CAD E100S il mitico E100S aspetta no dai lui ce l'ho qui porca miseria ok sì l'E100S ce l'ho il 100S fra le altre cose è stato è uno dei microfoni preferiti da da un personaggio celebre su YouTube che a volte dicono che facciano la stessa cosa io l'ho scoperto dopo che me l'hanno segnalato ed è uno che fa proprio prove di microfoni lui adora ama questo microfono oh Mike Del Gaudi Mike Del Gaudi esatto bravissimo fra l'altro simpaticissimo lui è veramente bravo e lui e questo credo che sia uno dei microfoni che ama di più in assoluto io l'ho provato qualche anno fa questo microfono e l'ho anche usato per un certo periodo poi sono passato all'U87 ma devo dire che probabilmente rispetto all'U87 questo è più flat più corposo ed è uno di quei microfoni che a qualunque scheda audio lo colleghi suona molto americano bello tondo è come se avesse quasi un compressore sotto questo qui è molto semplice da equalizzare non ti vengono fuori cose strane o riverberi strani che saltano fuori perché equalizzi come succede con qualche altro microfono peccato che abbiano smesso di farlo lo dico per quelli che stanno guardando il video che dicono guarda me lo vado a comprare e non lo fanno più ce l'abbiamo solo noi ci dispiace ce l'abbiamo solo noi non lo fanno più non lo fanno più dalla fine dell'anno scorso ci sono rimasto male quando lo scoperto spero che ne facciano un altro quanto meno di questo tipo perché effettivamente è un microfono che ha avuto una storia anche un po' tormentata ma diciamo è molto molto buono si è molto facile lavorarci ecco questo e poi la mia interfaccia audio si allora io ho una solid state logic 2 una ssl certo una ssl2 la ssl sono le stesse stessa ditta che in inghilterra fa il famoso abbey road le console gigantesche in questo momento sullo schermo qui davanti tu non lo puoi vedere ma sto esibendo un ssl channel strip che sta guidando la mia voce che poi metterò anche sul tuo per renderla alla fine per lavorarla nel filmato finale pubblicato ecco diciamo tra l'altro questi qui infatti la ssl2 a parte essere una scheda una scheda molto potente cioè spinge quante sono siamo sui 70 db 70 db ok mi pare non mi ricordo esattamente ma siamo su quella parte su quella è costruita molto bene molto solida ha un quando tu attacchi il phantom power l'interfaccia va muta per evitare il botto che potrebbe passare in audio ha poi questo famoso ora se voi lo proviamo il famoso tasto 4k che emula cos'è emula esattamente emula è la console la ssl4000 la ssl4000 ok se voi lo proviamo ti faccio vedere come funziona sì assolutamente allora questo è con il 4000 con il 4k messo dentro c'è una differenza non è una grandissima differenza ma c'è io la sento no no la sento già io qui sì sì ed è molto interessante l'effetto che dà fa una cosa una si punta a 4000 e un'altra mi pare a 10.000 cioè fa questi due piani e di cui le aumenta di 2 decibel in ognuno dei due e spesso la tolgo e questo è sporca un po' l'audio in modo che non venga come dico l'oloro asettico assomiglia abbastanza dicono che assomiglia abbastanza a quelli lì ci hanno messo un po' di cura per simulare questo questo effetto ed è una cosa che molto funziona bene non ha problemi di driver almeno non con windows e nemmeno con linux io sono su linux addirittura sei su linux ok sono su linux ci ho dovuto smanettare giusto il minimo che bisogna smanettarci su linux che cosa usi per registrare reaper reaper ah giusto è vero che reaper reaper funziona dovunque non è distruttivo ci vanno sopra tutti basta che sia in formato Vst va su qualunque cosa è continuamente supportato è volendo sostanzialmente gratis cioè non è gratuito funziona ha uno shareware dei tempi andati per così dire non so se ti ricordi all'inizio come funzionavano i shareware tu avevi il software lo provavi fino a quando ti stufavi e poi se lo volevi lo pagavi certo all'inizio è un attimo difficile da usare non è la cosa più immediata del mondo non è audacity che è lo step sotto che ho usato anche però è molto cioè dopo superata la prima fase è molto è facile da usare una volta cioè per le cose base reaper è un programma principalmente nato nato come molti per fare musica quindi ha tutta una serie di impostazioni per fare musica ma citando di nuovo Mike Dal Gaudio lui ha fatto tutta una serie su come sistemarlo per il voice over ed è fatta molto bene se state vedete l'inglese ok me lo andrò a vedere anche quello andateci a guardare e poi c'è anche tutta una comunità c'è uno sviluppatore che ha tutto un modo suo di parlare così parla sì che è uno sviluppatore di reaper che fa i tutorial periodicamente butta fuori i tutorial per reaper uscendo fuori da questo discorso i plug-in una serie di plug-in che all'inizio secondo me servono per tutti per me sono serviti molto e tutti nella comunità americana li consigliano e quelli sono della Isotope l'RX è l'element è proprio il base e lì c'è roba per cominciare a trattare l'audio tipo cominciare a togliere un po' di i rumori i rumori un po' di togliere i rumori di bocca perché è inevitabile farli togliere qualche plosiva qualche P che è andata troppo oltre nonostante tecnica il filtro e così via e togliere i click insomma togliere tutta questa roba qui che è per minimo per curare l'audio prima di metterci mano con altre cose tipo compressori si che aveva fatto prima e dovremmo fare un tutorial solamente sul trattamento dell'audio a questo punto no è vero perché tra l'altro ho scoperto che c'è una quantità di soprattutto compressori anche gratuiti fatti molto molto bene c'è per esempio un'emulazione di un 2A si l'LA2A di un LA2A che si chiama LALA analog obsession ah analog obsession ok è un tizio ed è uno solo uno sviluppatore solo che fa sostanzialmente principalmente questo tira giù emulazioni di 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 questa di di vari pezzi di software di software di hardware diciamo di hardware e ha un'emulazione dell'LA2A che secondo me è fatta molto bene io lo uso spesso e la mia e costa zero ah bello bellissimo costa zero questo qui ha un patreon che se volete ci si può partecipare ma lui le dà via anche senza senza che tu fai dopo andare su patreon e scaricare tutto quello che produce ok si chiama il detto aspetta che lo cerco analog obsession se non mi fa vedere delle cose porno analog obsession eccolo qua just another loaded by analog eccolo qua si fantastico ed è allora non è sicuramente il top gamma perché non ho sentito molti l'Ala l'E2A perché l'emulazione dell'E2A alcune costano quindi però però messo a confronto con altri che hanno l'E2A è riuscito bene ed è mi piace molto potrei scaricarne uno e fare la prova con quello della della UAD che per quanto sia è molto vicino sì 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 io non dico che verrà come quello della UAD perché probabilmente la UAD viene meglio o comunque viene più simile però però non tutti gli UAD vengono col buco per cui bisogna vedere quello lo sai tu eccolo qua Anna Obsession eccolo qua ok ci vado dentro e dopo lo faccio vedere a tutti perfetto fantastico sì sì questo qui è molto 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 carino come cosa cioè non è il non è il compressore che va bene su tutto però 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 è io tendo a usarlo di solito sul master e ti rende un pochettino più tutto quanto più diciamo amalgama tutto sì sì taglia quelli ultimi decibel che deve tagliare e fa quello che deve fare e amalgama tutto e dà questo suono molto che mi piace molto insomma il colore del suono mi piace molto allora Malio io ti ringrazio tantissimo perché per aver accettato questo invito per me è stato molto bello credo che sia anche una cosa che consentirà ad altre persone di diciamo comprendere come iniziare e qual è il mood per iniziare perché è un mestiere che va imparato e ci sono tanti aspetti in questo mestiere che vanno imparati molti sono tecnici e ti consentono una volta che ti sei liberato e che sei in grado di utilizzarli con una certa facilità di esprimerti poi artisticamente altrimenti sei fermo bloccato hai bisogno di questa cosa mi è piaciuto moltissimo il tuo approccio te l'ho detto via mail quando ci siamo sentiti le prime volte il tuo approccio alle cose e io adesso ti faccio ti dico in bocca al lupo in culo alla balena come si dice in questi casi si beh in culo alla balena non ti rispondo perché perché cosa si dice in Sicilia no beh no no non 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 si dice perché perché sostanzialmente se in bocca al lupo rispondi crepi il lupo si poveretto porca miseria e ti suona il telefono questo è essere in casa infatti quindi quindi dico io aggiungo solo una cosa a parte grazie Paolo ma figurati divertitevi divertitevi e rispondete al telefono e rispondete al telefono devo rispondere un attimo solo sospendiamo che succede quando ah che succede va bene che succede che era un call center cosa dove no ah no 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 con te parlavo dico era un call center no era ma che ne so dire foto fatti miei che cosa vuoi che sia no vabbè scherzavo niente quindi vuoi dire qualcosa al tuo pubblico il mio pubblico il mio pubblico di divertirvi se non vi divertite davanti al microfono questo non fa per voi questo mestiere non fa per voi se quando vi mettete davanti al microfono non riuscite a ridere dei vostri errori come succede spesso e non vi divertite anche quando le cose non vanno e comincia a essere seriamente difficile fare questo lavoro sì cioè vi dovete divertire in qualche maniera ci dobbiamo divertire a fare il lavoro se non ci si diverte un po' quantomeno non so soprattutto all'inizio poi penso che dopo si vada in abitudine ma no andare in abitudine è una brutta cosa non è non è non so deve piacerti deve piacerti in realtà molti di noi che amano fare questo mestiere lo fanno di continuo cioè nel tempo libero fanno ancora questo mestiere magari fanno le cose che gli piacciono anziché leggere un corso un po' noioso però devono fare bene fanno però fanno sempre questo mestiere non c'è niente da fare io io faccio le voci brutte alle mie figlie ecco vedi ti manca solo di portarti dietro il microfono a scheda degli effetti per farli in tempo reale qualche volta l'avrei voluti avere in microfono perché tutte volte me ne sono uscite voci voci strambe che dice potevo registrarle che c'era potevo registrarla sì sì tipo ok Malio grazie è stato un piacere prego ti abbraccio tutto mio ci possiamo sentire quando vuoi ok ciao 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 grazie a tutti Grazie a tutti.